non lo scussi 1-1 1-1 1-2 un altro perfetto quindi faccio 15 minuti quindi 5 minuti e poi qui lì e finiamo questo giro e poi portiamo per me anche i 40 secondi 1, via scende e atto scende 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 e poi ci siete dopo un anno caspita dai 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 sì la 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 giro giro dai 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 buona brava 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 partiamo con l'aerobit 10 secondi di lavoro e 10 secondi di lavoro brava 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 ok allora dai 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 decisa. a tutti. 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 se su. tutti. 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 a tutti. 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 a tutti. 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 a tutti. tutti. a 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 tutti. 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 a tutti. tutti. a 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 tutti.